C'è un po' che accogna. Juventus, aleratore Massimiliano, 1-9, Gonzalo, 1-10, Paolo, come la 1-10, Ingress, Nostra! Juventus, aleratore Massimiliano, 1-10, Ingress, Nostra! Grazie a tutti. Per il quale sarà letta da Matteo Carradini, curatore della nuova edizione italiana, una frase da Diario di Anni. Per il quale sarà letta da Matteo Carradini, curatore della nuova edizione italiana, una frase da Diario di Anni. Per il quale sarà letta da Matteo Carradini, curatore della nuova edizione italiana, una frase da Diario di Anni. Per il quale sarà letta da Matteo Carradini, curatore della nuova edizione italiana, una frase da Diario di Anni. Per il quale sarà letta da Matteo Carradini, curatore della nuova edizione italiana, una frase da Diario di Anni. Per il quale sarà letta da Matteo Carradini, curatore della nuova edizione italiana, una frase da Diario di Anni. Per il quale sarà letta da Matteo Carradini, curatore della nuova edizione italiana, una frase da Diario di Anni. Per il quale sarà letta da Matteo Carradini, curatore della nuova edizione italiana, una frase da Diario di Anni. Per il quale sarà letta da Matteo Carradini, curatore della nuova edizione italiana, una frase da Diario di Anni. Grazie. Grazie.